Sì, è una proposta che adesso è stata trasmessa al Consiglio Comunale e che la dovrà deliberare la prossima settimana. Una proposta che interviene con delle modifiche a regolamento sull'Isee e in particolare prevede delle agevolazioni per le famiglie che hanno più minori iscritti a dei corsi di studio. In maniera concreta si tratta di una riduzione della tariffa delle rette nella quota fissa per tutti i servizi comunali, quindi asilo nido, refezione, trasporto scolastico, del 50% per il secondo figlio e del 70% dal terzo figlio. È un intervento importante che comporterà per l'ente locale minori entrate per circa 100.000 euro, già per questo anno scolastico, però è una scelta assolutamente necessaria per impedire che i costi della crisi dovuto al Covid ricadano sulle famiglie e per rendere pienamente fruibili in questa situazione i nostri servizi comunali a tutte le bambine e tutti i bambini, in particolare a quelli delle famiglie numerose.